Sviluppiamo alcuni principi concettuali di provenienza appunto psicosociale, di provenienza di neurobiologia interpersonale, per capire la provenienza dei comportamenti e delle emozioni negative. E poi ci dedichiamo alla capacità trasformativa dell'insegnante rispetto alla classe in caso appunto di tensioni, opposizioni, difficoltà, disagio dei ragazzi eccetera. Per cui svilupperemo il metodo della parola chiave e parola direzionale, passi concreti, il metodo appunto della tripletta e altre tecniche che possono essere di grande utilità proprio per la gestione delle negatività. Le negatività sono i conflitti, il malessere e gli errori.